Come iniziamo? E se iniziassimo con c'era una volta? Quante storie avete sentito cominciare così? Facciamo qualcos'altro? Ah, ecco, ecco, ecco come si inizia un film No, lasciamo stare, sa di una cosa già vista, non trovate? Oh no, no, il libro no, se hai già visto il libro delle favole che si aprono Chiudiamo il libro, non se ne parla Facciamo così Grazie a tutti